E benvenuti in questo nuovo video, sono Anisic 07 e oggi vi faccio vedere il mio Huawei P8 Lite Ieri vi ho fatto vedere il mio iPhone 5S, adesso tocca al mio secondo cellulare, Huawei P8 Lite Che ragazzi poi vi racconto la storia di quello che è successo qui Vabbè, metto tutto in posizione e possiamo anche incominciare Allora, apri i due cavalletti, metto il terzo, faccio così, così, vediamo se si vede Vediamo se si vede? Sì sì, allora, ma, scusate il dito, però, ok, oh, alleluia Questo è Huawei P8 Lite, prima lo puliamo, perché si può vedere un cellulare così schifoso ragazzi Cioè, non so se si vede dal video, però ragazzi, ieri ho fatto un record di minuti di un video Non so, perché l'ho detto, però volevo l'ora lo dirgli Ho fatto un video di otto minuti ieri Quindi, eh, tanta roba Tanta roba un ca Sì, puntini puntini Perfetto Allora, adesso, ehm, questo, ehm, non ha il coso facciale, però su Huawei P8 Lite Ma perché ho perso la schermata? Su Huawei P8 Lite potevano anche fare lo sblocco facciale, perché qua tiene due fotocamere, se lo vedete E potevano fare da una la fotocamera e dall'altra il riconoscimento facciale Poi, fotocamera da dietro, torce Poi, vabbè, un puntantino per abbassare e alzare il volume, spegnerlo, accenderlo Qua c'è la sim Ehm, poi, meno male che hanno messo almeno l'impronta digitale Ma vi racconto la storia Che ho fatto Io stavo dormendo Ehm, cioè, non è che stavo dormendo Ehm, stavo sul letto perché era notte E mi dovevo, mi dovevo addormentare Ho poggiato il cellulare Pensavo che c'era il comodino BAM! Con la cover E caduto così BAM! Sulle piastrelle Le piastrelle, meno male, non si sono fatte niente Poi il cellulare è un po' meno Poi, ragazzi, vedete Ci sono un po' di vetri Ehm, molti vetri Vabbè Ehm, il più toletto è molto comodo Perché non è sia piccolo E né sia grande Perché ci sono cellulare, ovviamente, che sono alti così E mi danno parecchio fastidio E poi Ehm Pure qua, mi si è rovinato Ma come cavolo ho fatto a rovinarlo là? Guardate Si vede? Non lo so Ma come cavolo ho fatto? Adesso non mi spiego No Ah, la donna Non te sporca la video Ragazzi Io farò La grande Quello che pulisce i telefoni Perché in tutti i video Che vi faccio vedere i telefoni Devo pulire Perché non li pulisco No 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 Perfetto Giorni vuoti con tavolo e ore Si ricordo Sono migliore Basta guadagnare Per avere ragione Si Faccio proprio schifo a cantare Ehm C'è l'impronta digitale Vabbè Puoi mettere anche il PIN Quello a lettere Quello a numeri Puoi anche mettere quello Come si chiama? Quello che metti Lettere Cosa Ehm Io ho messo il PIN L'impronta digitale Perché Non lo so Non chiedertemi Poi Al cellulare VVP 8 Lite C'è Una fortuna Che si scarica C'è Si scarica Non velocemente Cioè Per esempio In 5 In 10 minuti Togli una tacca Per esempio Se il 100% Ti vedi Un video di 10 minuti E diventa il 99% Poi si mette È velocissimo A caricarsi Poi puoi scaricarsi Tutto l'epoca Che vuoi Puoi fare tutto Quello che vuoi Puoi mettersi Stasera Fate così Esce questa linea Che vi fa vedere Delle cose No? Mi scelte Una scritta strana Scudda Che è tipo Una Non lo so Tipo La mia lingua Quando la parlo Quando sono Quando sono Non lo so Non la parlo mai Solo Perfetto Sì Poi ragazzi È abbastanza comodo Perché Mamma mia Stava cadendo Il cellulare Meno male C'è la calcolatrice Ci sono le impostazioni La galleria C'è anche Il pontone Il pontline Che è una Non lo so Che cos'è Però Poi C'è tutto Ragazzi C'è tutto Il necessario Una bella notizia Aspettate Scusate Poi C'è Si può scaricare Le musiche La fotocamera È molto buona Aspetta Faccio un video Il video Dentro il video Il video Dentro il video Bella Il video Dentro il video Sto facendo il video Guardate Vabbè Questo non lo metto Su YouTube È normale Cancelliamolo Perché Ho fatto un video Casaccio Fa pure schifo Allora Comunque Se questo video Arriva Ai Dieci like Entro Tre settimane Io Io Che posso fare Io Faccio un regalo A mia madre Se questo video Se questo video Comunque Comunque fa 11 Quelli che hanno Indovinato Bravi Quelli che hanno Indovinato Bravi Bravi O brave Ragazzi 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 Comunque Vi volevo Ringraziare Per il raggiungimento Di 40 Di 40 iscritti Adesso ce ne ho 42 Però Vabbè Del raggiungimento Di 42 iscritti Vi ringrazio Tantissimo Se uno Sta vedendo Questo video Ed è nuovo Iscriviti al canale Attivo la campanellina E Bella Vabbè Adesso faccio L'intro Proprio Quella Quella Bella La faccio Così Vai Spero che Questo video Vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi Se ancora Non l'avete fatto Mettete un pollicione In su E ciao Ragazzi